In caso di cancellazione dei voli, le compagnie aeree Ryanair, EasyJet, Whaling e Blue Panorama offriranno il risarcimento dei biglietti non solo tramite voucher, ma anche tramite rimborso. L'ha fatto sapere l'Antitrust, che ha deciso di non adottare misure cautelari a conclusione dei quattro subprocedimenti nei confronti delle compagnie. Questi erano stati avviati a fine settembre per sospendere la pratica diffusa di vendere biglietti per voli poi cancellati unilateralmente causa Covid e rimborsati con la sola opzione del voucher, un buono che poteva essere utilizzato esclusivamente per comprare un altro biglietto della compagnia. Il turismo in Spagna sta vivendo una grave crisi a causa della pandemia di coronavirus. Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica, riportati dai media iberici, a settembre il numero di notti in albergo prenotate dai turisti è diminuito del 78% rispetto allo stesso mese del 2019, una tendenza a ribasso già registrata ad agosto, meno 64%. Nel complesso le prenotazioni negli hotel nei primi nove mesi dell'anno sono scese del 71% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, dati che preoccupano la Spagna, paese il cui 12% del PIL è rappresentato dal turismo. Uno studio condotto dall'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, dall'Ospedale Universitario di Würzburg in Germania e dall'Ateneo di Genova permetterà di rendere più efficace la stimolazione cerebrale profonda, ovvero la tecnica per eliminare alcuni sintomi motori della malattia di Parkinson, come il tremore delle mani, attraverso la stimolazione elettrica su determinate zone del cervello. La ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati su Brain Stimulation, ha individuato un segnale neurale specifico in grado di identificare quando le persone affette da Parkinson iniziano a camminare o si fermano. Il cervello raggiunge il suo picco cognitivo all'età di 35 anni, per poi iniziare dalla metà dei 40 anni il suo declino. È risultato di una ricerca dell'Università Ludwig Maximilian di Monaco pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences, che ha basato le sue analisi su oltre 1,6 milioni di mosse in più di 24.000 partite di scacchi professionali svoltesi tra il 1890 e il 2014. I ricercatori hanno confrontato ogni mossa compiuta da un giocatore con quella ottimale e consigliata da un software progettato appositamente per giocare a scacchi, disciplina che richiede intelligenza e concentrazione. È emerso che nel corso della vita le prestazioni sono fortemente aumentate fino all'inizio dei 20 anni, raggiungendo il picco a circa 35 per poi diminuire leggermente dopo i 45.